Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale youtube per un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari quindi andiamo subito a vedere che cosa sta succedendo borse oggi relativamente tranquille al di fuori dei mercati asiatici su cui ci sono stati un po' di chiusure contrastanti ma le borse europee oggi sono in buon rialzo tutto sommato e i futures su quelli americani dopo il rimbalzo di ieri sembrano impostati per il momento in maniera abbastanza tranquilla ah scusate ho fatto mosso la scrivania e tutto questo viene ovviamente da cosa? viene da un calo dei prezzi delle materie prime che portano un pochino più di tranquillità sui mercati quindi fanno in modo che gli indici non subiscano più la volatilità dei giorni scorsi di questa settimana e di quella precedente e poi oltretutto sono usciti i dati dei direttori degli acquisti del PMI dati manifatturieri dove ci sono dei numeri molto interessanti perché sono stati i migliori del previsto e questo ha ovviamente contribuito a far partire l'Europa bene ovviamente anche sulla scia del rimbalzo di Wall Street di ieri altre notizie interessanti il settore automotivo europeo si sta muovendo abbastanza compatto in maniera positiva Volkswagen più 1% Daimler più 1% BMW più 1,5% Daimler ha dichiarato che presto, quest'anno molto probabilmente la nuova divisione Daimler Track potrebbe arrivare in borsa quindi davvero una mossa interessante quella di Daimler e andiamo subito un po' a vedere cosa sta succedendo quindi anche sugli indici un pochino più in particolare quindi andiamo a vederci cosa succede con l'analisi tecnica innanzitutto c'è da dire che l'indice commodity di Bloomberg sta calando un pochino quindi si sta rilassando un po' e questo non ci fa male diciamo soprattutto non fa male ai mercati poi tutto sommato ieri c'è stato un bellissimo rimbalzo per quanto riguarda soprattutto il Nasdaq che ha fatto un più 2,10% che è quello che ha performato un po' meglio non particolarmente esaltante sono state le chiusure di Dow Jones, questo è l'industria, questo è il transportation più 0,55 e meno 0,59 e qui è sempre il solito ragionamento delle aziende value delle aziende grow delle aziende che danno in qualche modo più fiducia sulla crescita mediale su investimenti più speculativi che sono tendenzialmente quelli del settore tecnologico mentre quelle value, diciamo quelle che in qualche modo sono quelle trainanti l'economia quindi tutto quel settore trasporti tutto quel settore industriale stentano un pochino di più perché ovviamente c'è meno speculazione però detto questo oggi Fuzimib più 0,53 DAX quindi più 0,18 bene ma non benissimo perché stamattina ho visto che era uscito l'indice 0 e non era bellissimo negativo gli UK meno 0,29 meno 0,30 come sempre gli UK va un pochino in controdentenza rispetto al resto d'Europa e la Francia più 0,34 il Giappone è chiuso a più 0,17 contrastate le borse asiatiche l'anseng di Hong Kong è praticamente piatto mentre il China 300 il China 50 meno 1,49 meno 1,01 il VIX si abbassa un pochino anche ieri ieri era sceso fortunatamente oggi siamo a 20,7 leggerissimamente in rialzo ma non dovrebbe destare preoccupazioni parliamo velocemente di materie prime perché la Cina ha detto ha fatto intendere in qualche modo senza dichiararlo ufficialmente di voler comunque tenere sotto controllo i prezzi dei metalli soprattutto perché ovviamente la Cina sta facendo incetta di materie prime quali terre rare metalli e quant'altro proprio per permettere alle proprie aziende di non avere problemi di scorte tutto questo ovviamente ha portato diversi problemi sul mondo delle materie prime e quindi diciamo questa mossa della Cina porta un pochino i metalli quanto meno a rilassare il prezzo vedete che anche il rame il rame ieri era sceso non tantissimo ma il giorno prima era sceso abbastanza ieri è sceso ancora un pochino oggi siamo in leggero siamo in leggero territorio negativo meno 0,47 poi abbiamo per esempio stavamo guardando prima il palladio a 2,884 a meno 0,40 poi guardiamo un attimino il petrolio che era arrivato a toccare i 61 il petrolio il prezzo ha beneficiato in maniera negativa ovviamente di un rallentamento delle ostilità tra Iran e Stati Uniti tanto è vero che leggevo che il presidente Hassan Rouhani ha detto che ieri gli Stati Uniti sono pronti ha detto ieri che gli Stati Uniti sono pronti a far rientrare i provvedimenti imposti da Donald Trump tre anni fa quindi questo potrebbe in qualche modo portare un nuovo afflusso di greggio sui mercati e ovviamente con la produzione con le scorte di greggio che aumentano è chiaro che il prezzo potrebbe risentire diciamo di questo ulteriore afflusso di materia prima quindi le materie prime tendono stanno un pochino scendendo andiamo a vedere nel dettaglio quindi scende un pochino anche il grano vedete che discesa che sta facendo il grano il grano l'abbiamo tradato già due tre volte in questi giorni con delle operazioni di breve termine ma comunque sempre andate a buon fine in short e vedete che anche oggi il grano sta scendendo io mi aspetto che il grano torni veramente su livelli un pochino più consoni e quelli che potrebbero essere i suoi valori un pochino reali diciamo quindi siamo ancora molto alti però staremo a vedere la stagione del raccolto è appena iniziata e scende anche lo zucchero a 16,83 poi vediamo un pochino stabile il cacao scende il mais anche qui vedete più o meno stesso movimento del grano scendere anche la soia eccola qua infatti e quello che continua un pochino a far soffrire diciamo gli investitori che come me stanno aspettando che il gas scenda un po' di più esattamente proprio il gas che malgrado le scorte di ieri che siano state altamente ribassiste perché sono state 71 bcf contro i 60 previsti quindi altamente ribassiste perché le scorte sono aumentate il prezzo tutto sommato non ha fatto quel movimento che ci si aspettava vedete che è andato giù un pochino è andato addirittura però a toccare 2.95 e poi è rimbalzato peccato perché ovviamente si è assestato proprio qui vedete che c'è proprio questo pochino di volume molto molto forte proprio qui a 2.95 c'è un supporto per il prezzo piuttosto forte vedete infatti vedete che ci ha rimbalzato proprio in corrispondenza della media 21 periodi adesso è tornato indietro siamo intorno ai 3.015 quindi è probabile che oggi non vedremo grossi movimenti appunto di sale il gas se aspetteremo che il lunedì prossimo cominci con un ulteriore con un ulteriore diciamo rilassamento del prezzo perché comunque le previsioni di consumi sono piuttosto bassi per il momento non sono bassissimi sono low quindi non very low ma low e quindi comunque siamo in un momento della stagionalità del gas che dovrebbe dirci che insomma il prezzo dovrebbe veramente rilassarsi un po' io vorrei vedere arrivare almeno il prezzo intorno ai 2.77 2.75 almeno poi staremo a vedere un po' come proseguirà nel corso del tempo e oro oro torna l'oro a crescere torna l'oro a farsi parlare di sé e torna soprattutto a farlo in maniera molto interessante con una cavalcata che ormai è partita proprio qui intorno ai primi giorni di aprile e che non si sta fermando ha rotto gli ultimi indugi l'oro e in questo momento diciamo che come struttura importante a punto di vista tecnico c'è una leggera resistenza 1.880 dopodiché volendo l'oro potrebbe avere tranquillamente diciamo una specie di autostrada verso 1.950 quindi anche qui potrebbe essere davvero interessante vedere che cosa combinerà l'oro e andiamo a parlare un attimino di stock perché visto che siamo sulle materie prime parliamo di Rio Tinto Rio Tinto che abbiamo già tradato più volte nel corso dei vari mesi per cui avevamo già visto avete già visto la mia strategia io ero entrato qua su Rio Tinto proprio su questo supporto qua ero andato proprio la settimana scorsa a chiudere le posizioni proprio in quest'area qua superato questo livello a 6500 intorno a 6700 ero andato a chiudere le posizioni perché perché mi aspettavo che adesso cominciasse una sorta di discesa infatti vedete che Rio Tinto ha cominciato a stornare facendo anche tra l'altro andando in volatilità quindi anche con dei salti abbastanza interessanti verso il ribasso e adesso vedete si sta un pochino stabilizzando intorno ai 6000 perché mi aspettavo una discesa innanzitutto perché la pressione che c'era sui prezzi delle materie prima mi aspettavo che prima o poi cominciasse a spingere questi prezzi verso il basso e quindi essendo Rio Tinto una società che è leader mondiale uno dei più grandi colossi mondiali di estrazione mineraria di lavorazione mineraria è chiaro che mi aspettavo un pochino più di rilassatezza del prezzo quindi adesso staremo a vedere io diciamo che mi piacerebbe vedere il prezzo tornare almeno sui 5500 prima di poter ipotizzare un nuovo ingresso perché comunque diciamo che per il 2021 è chiaro che le materie prime saranno ancora in grande grande spolvero quindi magari ci sarà per il momento un rilassamento dei prezzi ma non è detto che si continui a scendere per forza perché ripeto già sul 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 rame soprattutto è probabile che vedremo ancora un innalzamento dei prezzi non magari subito non nelle prossime settimane ma probabilmente nei prossimi mesi quindi interessante questa discesa di Rio Tinto la terremo monitorata perché andremo a vedere quanto potrà scendere oggi per la gioia dei miei copiatori su eToro sono andato a chiudere le posizioni su TOTS perché ha aggiunto il target che ci avevamo prefissati sopra i 46 euro vedete oggi TOTS è andata a stornare siamo almeno 2% io ho chiuso diciamo le mie posizioni con un bellissimo gain siamo più intorno più o meno al più 30% quindi bene così e già che ci sono ne approfitto ieri ho realizzato un video promozionale proprio per diciamo la mia posizione di popular investor su eToro lo potete trovare ve lo metto anche qua diciamo in questo video come link e andate pure a vedervi un po' questa mia presentazione ho cercato di giocare un pochino spero che sia stato quantomeno interessante e bene che altro quindi queste erano due interessanti stock da tenere monitorati poi andiamo a vedere un po' quello che è successo sui mercati americani ieri AMD più 2,40% vedete AMD continua a soffrire ancora un pochino dopo i massimi toccati proprio a inizio anno chi non soffre Facebook è 3,18% più 1,60% si mantiene altamente competitivo Facebook torna a far parlare di se Apple ieri più 2,10% ma siamo ancora in un territorio molto molto delicato per Apple vedete siamo incastrati tra la media 50 periodi e la media 200 periodi per cui c'è ancora tanto tanto lavoro da fare per Apple per tornare a certi livelli bene Google 2 a 1 più 1,50% andiamo a vedere un pochino graficamente vedete che Google comunque continua ad essere molto costante nella sua crescita e Intel 55 qui ve l'ho già detto anche ieri Intel io mi aspetto che possa adesso andare a chiudere questo gap qua creato proprio nelle scorse settimane e andiamo a guardarci un attimino Cisco vediamo un pochino eccola qua Cisco perché ieri alla fine ha fatto un più 0,72% partendo da un'apertura di meno 6% quindi davvero è andato a fare qualcosa di molto molto interessante scusate sto muovendo i cavi perché mi sono reso conto di non avere la batteria attaccata ok e dicevo quindi molto interessante il movimento che ha fatto Cisco ieri io ieri vi avevo già detto l'avevo già avvertito con dei post su Telegram e su Etoro Cisco apriva con un meno 6% ma io avevo avvertito che Cisco era un'azienda assolutamente sottovalutata e i numeri erano assolutamente interessanti quindi sono andato di nuovo ad aprire un'altra posizione su Cisco proprio sul ribasso in apertura perché era un'occasione davvero ghiotta e quindi vedete che in effetti anche oggi il pre-market comunque per il momento è abbastanza interessante per me Cisco è davvero ancora un'azienda che può dare tante tante soddisfazioni soprattutto per un futuro di lungo periodo perché Cisco è una di quelle aziende che difficilmente è volatile e offre sempre diciamo una certa costanza nei suoi movimenti quindi veramente da teniamo d'occhio oggi benissimo anche Enel sentiamo sul mercato italiano che comunque sale dopo aver di nuovo essere andato a toccare qui la media a 200 periodi vedete come Enel cerchi faticosamente diciamo di recuperare un pochino da questi enormi movimenti che ha fatto nell'ultimo anno e adesso sta un po' soffrendo diciamo la media a 200 periodi è incastrata sotto la media a 50 tutto sommato Enel comunque è veramente ancora un'interessante diciamo crescita da poter esprimere andiamo su Eni Eni che torna ai 10 euro ormai da qualche settimana e torna sui 10 euro ha fatto veramente una bella rincorsa Eni ne ha davvero tanta ancora di strada da fare per recuperare i prezzi pre-covid e qui ci sarà davvero da vedere se ce la farà a recuperare questi prezzi però intanto comunque questo assestamento del prezzo è davvero interessante tra l'altro c'è lo stacco dei dividendi proprio il 24 quindi tra qualche giorno bene qui altra azienda interessante era fortinet di cui avevo già parlato parliamo di sicurezza quindi cyber security che si sta anche qui si sta veramente lanciando di nuovo e sta continuando a crescere qui siamo entrati anche qui settimana scorsa perché proprio sulla diciamo sull'annuncio di Biden di volere in qualche modo rafforzare le misure di sicurezza di sicurezza dopo l'attacco degli hacker all'oleodotto negli Stati Uniti quindi ovviamente questo porta a beneficio a tutte le aziende che si occupano di cyber security scusate quindi fortinet sisco norton chi più ne ha più ne metta quindi veramente un settore da tenere sotto controllo bene due parole veloci le andiamo a spendere sulle cripto perché l'altro giorno con l'ultimo tweet di Elon Musk quindi lo andiamo proprio a vedere qua l'ultimo tweet di Elon Musk arrivato esattamente qui sulle 32k esattamente qui che ha twittato Tesla has diamond hands quindi Tesla ha le mani di diamante con modo per slang alla moda di Wall Street Bets per dire che Tesla non ha intenzione di vendere i propri bitcoin ma se li tiene e quindi questo ha portato ovviamente un rimbalzo di tutto il mondo cripto da 32k il bitcoin ha rimbalzato fino ai 40 e adesso vedete che sta cercando faticosamente di tenere botta faticosamente perché ieri il tesoro americano ha dichiarato che rivedranno le tassazioni sulle criptovalute e anche alcuni verifichi alcuni controlli molto probabilmente entrerà in porto una legge per cui tutti i trasferimenti di denaro in criptovalute superiore ai 10.000 dollari dovranno essere dichiarati e molto probabilmente tassati perché ovviamente Biden ha bisogno di nuove tasse bene allora dicevo Tezos oggi più 238 lo stavo guardando prima perché era arrivato ovviamente su un livello interessante qui sulla media 200 periodi quindi era sceso dal canale rialzista ma erano scese un po' tutte le aziende le criptovalute dal canale rialzista ADA è una di quelle che ha sofferto di meno tutto sommato poi qui abbiamo Tron più 049 abbiamo Tezos diciamo più 236 ETC Ethereum Classic che oggi è un pochino piatto così come Binance così come Ethereum e poi abbiamo andiamo a vedere un pochino chi oggi rimbalza un po' di più abbiamo BTT abbiamo BitTorrent che segna un più 7% Yota praticamente piatto Nio meno 7 Doge meno 1 Uniswap praticamente fermi adesso è chiaro che c'è molta molta indecisione sulle criptovalute in tanti mi stanno chiedendo cosa faccio compro non compro ragazzi non ve lo posso dire io se dovete comprare non potete comprare ognuno ha le proprie strategie io le mie tendenzialmente quando ci sono dei ribassi talmente pesanti come questo è chiaro che le occasioni di ingresso sono davvero yotte soprattutto l'abbiamo già visto questa è la market cap totale delle cripto che è andata veramente a collassare nel giro di pochi giorni del 50% rimbalzando addirittura sulla media 200 periodi questo da un punto di vista tecnico è davvero interessante e poi vedete che siamo ha recuperato già diciamo un buon terreno quindi significa che in molti hanno approfittato di questi cali di questi crolli però adesso arriva il weekend il weekend ci porta sempre movimenti abbastanza incontrollati abbastanza nervosi quindi staremo un po' a vedere prestate davvero tanta attenzione bene per il momento è tutto spero come sempre questo video vi sia piaciuto aiutatemi a far crescere il canale come ripeto spesso farmi vedere tanti like e come sempre lasciate commenti io rispondo a tutti ci vediamo ai prossimi aggiornamenti buon weekend stay tuned a finger crossed ciao a tutti